Entrando nella Basilica della Natività a Betlemme, la si trova ancora tutta piena di impalcature. Il restauro dei mosaici e dei muri della navata centrale è finito da tempo. C'era da scegliere l'illuminazione. Dopo molteplici progetti e consulti, il Comitato Presidenziale palestinese ha deciso di utilizzare delle fonti luminose alloggiate sulla travatura centrale. Ovviamente sono state sostituite tutte le linee di alimentazione con la più attenta cura di mascherarne l'ingombro, in modo che assolutamente sfuggano all'occhio. Adesso stiamo completando tutto l'impianto elettrico della Chiesa, che è stato rifatto completamente. A partire dalle linee primarie, con i nuovi quadri, tutti gli interruttori nuovi, nuove linee antincendio a norma e tutto, che passano. È stato molto difficoltoso per i passaggi, perché bisogna sfruttare tutte le cavità che noi restauratori abbiamo conosciuto in quattro anni di lavoro. E quindi migliaia di metri di cavo sono stati sviluppati e disposti lungo tutta la Chiesa. E adesso cominciamo ad attaccare le prime luci. In questo caso siamo nella navata centrale. Potete vedere le nuove illuminazioni. Abbiamo cercato di metterle il più nascoste possibile. Adesso per effetti di filmato si possono vedere, ma quando entriamo in Chiesa si notano molto meno. La tipologia di illuminazione è stata una scelta tutt'altro che facile in una basilica tanto vetusta, soprattutto per il fatto che le sorgenti luminose erano state studiate fin dal principio per integrarsi con i mosaici, in un magico gioco di luci che si è scoperto soltanto nel restauro più attento e rispettoso. Alcuni fari accentueranno in alto le aureole degli angeli, altri ricreeranno sui mosaici inferiori quella luce naturale che di giorno piove dalle finestre. Queste sono tutte le luci che daranno l'illuminazione generale, però in particolar modo sono speciali per illuminare i mosaici. Avranno lo stesso tipo di inclinazione per permettere, come si vedeva a tempi di Giustiniano, con la luce delle finestre, quella speciale angolazione che colpendo la tessera inclinata riflette verso lo spettatore o il pellegrino che era in basso. Inoltre abbiamo messo anche altri tipi di luci che vanno ad accentuare le aureole di tutti gli angeli. Queste luci naturalmente sono tutte luci filtrate e adatte alle opere d'arte, per cui possono restare accese senza compromettere la coloritura dei mosaici o delle pitture. Oltre alla illuminazione si è provveduto alla sicurezza. I fari quadrati illumineranno la basilica in caso di emergenza consentendone l'evacuazione con un'autonomia di due ore. La navata centrale non è l'unica. Sono da illuminare anche le due navate laterali. La luce sarà completamente diversa, soffusa, perché mancano le finestre e la luce si riversa sui lati dalla navata centrale. Ma si potranno finalmente ammirare i capitelli e le colonne, in particolare i dipinti sulle colonne di cui ora sta iniziando il recupero. L'illuminazione, in particolar modo nelle navate laterali che sono qua, sulla sinistra sia sulla destra, ci saranno altre 40 postazioni, installazioni con dei speciali LED, che illumineranno tutte le colonne, gli architravi, veramente delicate, una luce soffusa per avere più o meno lo stesso range di luce come abbiamo nella navata centrale, perché bisogna considerare che la navata centrale ha ancora le finestre, ma quelle laterali sono state chiuse 24 finestre nel corso dei secoli, per cui c'è da ovviare un po' a problemi illuminotecnici. Quanto si dovrà ancora aspettare per vedere la basilica libera dalle impalcature? Per la navata centrale i tempi sono maturi e la bella notizia è che sicuramente quest'anno il Natale potrà essere celebrato nella basilica rinnovata. Altre illuminazioni verranno poste nel transetto, anche sopra l'orditura linea per far risaltare leggermente la particolarità del transetto, oltre ai vari mosaici ci sono anche nelle altre zone. Tutto questo lavoro dovremo concluderlo entro il mese d'ottobre, illuminotecno, per cui si prevede che per questo Natale potremo riuscire a togliere tutti i ponteggi della chiesa e intanto si può godere di tutto lo splendore dei mosaici ritrovati, degli architradi, di parte delle colonne, perché per Natale probabilmente parte delle colonne saranno restaurate, compreso i meravigliosi dipinti, anche se rovinatissimi, crociati che sono sulle colonne. Il resto poi si potrà continuare nel corso del prossimo anno, ma comunque la chiesa sarà tutta visibile nel suo splendore.